Grazie per avermi invitato, per aver organizzato questo bel evento. Mi dispiace di non stare con voi, in particolare perché ascoltando gli interventi mi viene in mente di invertire la questione. Non solamente quanto è importante Tony per la nostra attività politica e pensiero politico, ma quanto è stato sempre importante il nord-est per Tony. Cioè è chiaro, ovvio, forse, ma molto interessante, durante il periodo degli anni 60 e 70, Marghera, potere operaio, l'istituto, come diceva Lisa, io nella mia visione, dalla mia posizione molto parziale esterno, ero presente solo per vedere quanto era importante. Per Tony, anche per me, negli anni 90, come diceva Beppe, ma anche negli anni 2000, la mia introduzione era con Luca, Beppe, Vilma, Piero, Susanna, a Sherwood, a Pedro. E in questo periodo, attorno al G8 di Genova e anche dopo, mi sembrava di scoprire una specie di fabbrica di impresa politica nel nord-est. e al Pedro in particolare a Sherwood, c'erano, per non finire, iniziative a Ciappas, Diplomazia del Basso, Global Magazine, Global Beach, Global non sai cosa, cioè un'infinità di iniziative politiche che funzionavano come una specie di polo, di polo di pensiero e di attività. altri, Giuditi in particolare, sapranno molto meglio di me quanto era importante per Tony e continuava a essere fino a oggi, non dico solamente in quegli anni. e dico tutto questo in parte perché a me piacerebbe discutere con voi e capire di più anche su queste cose, ma mi sembra importante anche perché bisogna riconoscere una potenza vera. e questa è una cosa che vorrei enfatizzare in un momento, è una potenza vera che storicamente nel Veneto c'è stato e continua a esserci e bisogna riconoscerlo. ecco, ecco, è questo che ho preparato un po' nella chiave di cui parlava Sandro, di riconoscere l'eredità di Tony, sul tuo pensiero. Ecco, passo adesso alla cosa che ho preparato, molto semplice e breve. per me almeno un tentativo al compito che poneva Sandro è di porre il pensiero di Tony come pensiero rivoluzionario, con il compito centrale di individuare la strada della rivoluzione e la nostra potenza, la nostra capacità di farlo. ecco, e io lo rassumo, mi sembra che può essere anche presentato come primo tentativo, nello slogan o parola d'ordine è che la resistenza viene prima del potere, che è una cosa che si diceva, che Tony diceva, che noi dicevamo spesso, io lo consideravo come una specie di assioma nel senso matematica, cioè un punto di partenza che avevamo sempre da capire e per me, o almeno vorrei porlo in tre, con tre fonti, diciamo. Ecco, sarebbe bello rispondere alla sfida di Sandro, descrivendo una specie di manuale del pensiero di Tony, nel senso c'erano quei storici manuali del pensiero di Marx, non mi ricordo se era Lenin o Stalin, ha fatto un manuale di Marx con tre fonti, spiegandolo con la filosofia tedesca, l'economia scozzese e la politica francese come i tre fonti, e se tu puoi capire questi tre fonti, puoi capire il pensiero di Marx. Ecco, provo una cosa non esattamente simile, ma come tre fonti a questa idea che la resistenza viene prima del potere. Uno è epistemologico, cioè è una questione del sapere. Per noi, per un periodo, erano... Non so cosa è successo, ma forse farò più breve per non creare problemi. Un secondo corrente, diciamo, a questa idea della resistenza viene prima del potere. Io lo chiamerei ontologico, ma sto pensando a Foucault-Deleuze, come diceva Beppe, che era importante. Sto pensando specificamente a un punto nel libro di Deleuze su Foucault, dopo la morte di Foucault, in cui lui dice che molti lettori pensano, leggendo Foucault, che la resistenza viene dopo il potere, è una risposta al potere. Invece è l'opposto. Cioè, lui dice che in Foucault la resistenza viene prima dal potere e lui dice che è primario, questo è là. E credo per Deleuze è una questione non cronologica che la resistenza viene prima dal potere, è una questione ontologica nel senso della creatività. Il potere non crea niente. E la resistenza è il momento creativo. Il potere riprende ciò che è stato creato dalla resistenza. In questo senso ontologico, un secondo modo, un secondo fonte, diciamo. Un terzo, ed è bello perché nel testo di Deleuze su Foucault, in questo punto lui fa una nota a piedi pagina dicendo rassomiglio un po' Foucault in questa maniera del pensiero di Mario Tronti. Ecco, il terzo è ovviamente questo, la famosa brano in Operai Capitale in cui Tronti dice che sono le lotte operai che vengono prima e loro non solamente anticipano, ma anche prefigurano le varie ricostruzioni e ristrutturazioni del capitale. Ecco, in senso politico, questo è tutto questo. Perché dico tutto questo? Qual è l'importanza di questa idea che la resistenza viene prima del potere? Io direi che è il modo di affermare e confermare, ecco, individuare la nostra potenza per fare rivoluzioni. Cioè che il fatto che la resistenza viene prima identifichi un punto di forza che noi abbiamo anche spesso non sapendolo. E questa credo è l'importanza di questa perché non solamente identificare la capacità, ma pone la strada per fare rivoluzioni. Questo mi sembra il punto centrale di tutto pensiero rivoluzionario, di, sì, forse entrambe le cose, identificare la nostra potenza, la nostra capacità di farlo e poi puntare alla strada giusta per fare rivoluzioni. Quindi io so che è molto incompleto e non risponde in maniera adecuata al compito che ha posto Sandro, però forse un primo modo di fare una specie di identificazione, diciamo, della realità del pensiero di Tony dentro questo quadro. E come cominciavo a dire, e questo mi sembra l'importanza di farlo qui al Pedro, che questa realità della politica del nord-est mi sembra un punto fondamentale della nostra potenza già esistente, che bisogna affermare e far continuare in maniera creativa, nuova, eccetera. Ecco, mi fermo lì. Grazie tanto.